L'editoriale è presentato da Sartoria Italiana www.sartoriaitalianaeshop.com L'editoriale di Guido Trombetti Bene, bene. Il ciclo di ferro del Napoli, quelli che tutti indicavano come il banco di trova determinante per stabilire la qualità e la quantità delle ambizioni del Napoli è finito ed il Napoli ne ha ricavato cinque punti, tre contro il Milan, uno contro la Juve ed uno contro l'Inter. La partita di ieri sera contro la squadra di Inzaghi è importantissima, non tanto e non solo per il punto che ci consente comunque di restare in vita alla classifica, quanto perché ci autorizza a relegare ad accidente occasionale la brutta, bruttissima sconfitta contro la Tavoli. C'era da essere preoccupati per molti motivi, innanzitutto perché quando prendi tre gol in casa da una squadra può venire meno il livello di sicurezza e di fiducia nei propri mezzi di una squadra. Poi perché andavamo a giocare contro i campioni d'Italia in carica che hanno una lista di giocatori che gli consente di fare un turnover in Coppa campioni e vincere comunque la partita. Non ci dimentichiamo che l'Inter si concede il lusso di tenere in banchina un centrocampista titolare della nazionale. L'Inter è una squadra molto forte. Come ha giocato in Napoli? Ma diciamoci la verità, ha giocato una partita difensiva e dimostrando ancora una volta che la squadra così come Conte l'ha impostata è nata per giocare partite difensive ed operare in ripartenza e non è un caso che quando il Napoli gioca così dà il meglio di sé. Quando il Napoli deve fare la partita, quando il Napoli vuole organizzare il match, il Napoli mostra difficoltà. Ieri i giocatori sono stati molto bravi globalmente parlando perché hanno eseguito alla lettera le disposizioni del tecnico. Guardate, se avete visto, l'avete visto certamente la partita, gli esterni dell'Inter sono stati quasi del tutto resi inoffensivi. Questo grazie a una bellissima partita di Lorenzo e di Oliveira e di Politano e Covara che sono andati ad aiutarli nei raddoppi. Certamente non è che siano tutte rose e fiosi. Facciamo subito le vengole da Mendeli così ce le togliamo dai piedi. Beret ha preso un gol francamente estremamente grave, un tiro centrale sul quale è mancata la spinta dalle gambe. Tanto che qualcuno dice ma vuoi vedere, considerato anche il secondo gol contro l'Atalanta più o meno caratterizzata dallo stesso tipo di incertezza, vuoi vedere che questo non si è ripreso ancora e paga il prezzo dell'incidente muscolare alla gamba per cui non è ancora in condizioni di esplodere. Eppure lui, nei pali, è uno dei migliori portieri d'Italia. E questa è la prima. Insomma lei però non gli possiamo buttare la croce addosso perché nella valutazione complessiva fino ad oggi il portiere ha fatto un buon campionato. La mia delusione più grande è Gilmour, ma non è Gilmour di ieri, è Gilmour in questo periodo. Lui ha avuto la sua grande occasione con l'infortunio di Lobotka e dal mio punto di vista non se l'è giocata grazie a me. Nel senso che è un giocatore che sbaglia troppi appoggi per quella che è la delicatezza del suo compito in campo. Addirittura ci fa rischiare di subire ripartenze pericolose. Quindi su Gilmour io sono francamente da Gilmour io sono un po' deluso. Lobotka, Lobotka croce e delizia di questa squadra. Nel primo tempo io non ho spazio da fare, mi sembra che si sia mosso molto bene ed abbia fatto molto bene quello che gli chiede Conte, cioè di ricevere spalle alla porta e di aprire sul centrocambista che si inserisce o su uno dei due esterni. Questo l'ha fatto molto bene. Nel secondo tempo Acerbi ha preso il sopravvento, direi, in maniera chiara e bene ha fatto Conte a un certo punto a sostituirlo con Simeone. Simeone è un giocatore che io rispetto molto, che mi è molto simbatico, un giocatore di grande serietà, gioca, non gioca, lui sta sempre lì pronto, in silenzio e disponibile. Però io non l'ho mai considerato un giocatore particolarmente forte. Ed anche ieri sera in fondo, senza per questo dargli colpe che non ha, quando ha avuto l'occasione loro per consentire al Napoli portare a casa, meritatamente. La posta piena ha sbagliato e questo è Simeone. Se qualcuno pensa che bisogna sostituire Lukaku con Simeone sbaglia, ma sbaglia di grosso. C'è un abisso di personalità, c'è un abisso di peso in campo, c'è un abisso di soggezione nella quale mettere gli avversari che eh eh rendono il discorso assolutamente inutile. Napoli quindi dicevamo ieri ha disputato globalmente una bella partita. Inutile stare qui a fare l'elenco dei singoli. Uno però lo voglio citare del buongiorno che ieri non ha giocato bene, è stato assolutamente straordinario. Questo sì che è un acquisto eccezionale. Veramente un giocatore che fa sentire la sua presenza durante la fase difensiva ma che ha anche un un piede garbato che gli consente di uscire a testa alta dall'area e quando i centrocampisti sono marcati di offrirsi come una possibile alternativa all'avvio della manovra. Io sono molto contento, non mi potevo mai aspettare che dopo undici partiti in Napoli fosse primo e se guardo la classifica come la guardano tutti non posso che mostrare eh molta attenzione al fatto che ci sono tante tante squadre lì in un punto, in due punti. È una una situazione che dimostra per certi aspetti la mediocrità di questo campionato ma chi ci dice anche che questo campionato potrebbe decidersi nelle ultime giornate. Insomma da tanti anni non si vedeva un livello di incertezza simile ma la squadra che possa uccidere questo campionato, la squadra che lo possa vincere con largo distacco francamente non si vede perché molto probabilmente non c'è. Allora è un peccato che il Napoli accusi battute d'arresto come quella contro l'Atalanta perché il Napoli ancora come devo dire come un fabbricato di cui sono venuti fuori i pilastri ma che non c'è ancora i travezzi. Ecco quindi un Napoli che ancora ha un gandiere aperto può dire la sua. Può dire la sua se si scioglie un problema determinante è quella della manovra d'attacco sulla quale ancora diciamo la verità non diamo risposte soddisfacenti. In particolare le ripartenze del Napoli anche quelle molto belle a vedersi, quelle molto ben lanciate si risolvono per lo più senza creare problemi agli avversari. Quindi manovra d'attacco e ripartenze sono il punto su cui Conte, ma lui lo sa benissimo non lo devo dire certamente io, su cui Conte deve lavorare per trasformare questo Napoli da una buona squadra in una squadra molto molto forte. Io sono ottimista. Sono ottimista che il Napoli ci regalerà come ha fatto finora un bellissimo campionato. Vedete qua non si tratta di vincere lo scudetto. Tante squadre lassù, cinque o sei, in uno o due punti, sono la prova che anche la posizione in Champions non è affatto un automatismo. Quindi io sono ottimista ma sono ottimista fondamentalmente perché credo nella grande lavoro che Conte sta facendo e continuerà a fare. Lungi però da ritenere questa squadra, una squadra compiuta. Buona giornata. l'editoriale di Guido Trombetti. L'editoriale è stato presentato da Sartoria Italiana www.sartoriaitalianaeshop.com www.sartoriaitalianaeshop.com